Sì, possiamo iniziare ora! Ok! Ok! I nostri bambini vogliono dire loro nomi! Ok! Ok! Allora! Silenzio! A little bit louder? Roberto, yes! Roberto! Sì! My name is Marta! Marta! Hello, Marta! Hello! Shhh! My name is Rebecca! Hello, Rebecca! My name is Rebecca! Hello, Rebecca! Hello, Rebecca! Shhh! Margarita! 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 Sara! Hello, Sara! Hi, Paola! Hi, Paola! Hi, Paola! My name is... Michal! Richard! Yes, I ran the bell puede! Oh! I ran the bell a little bit! She made me look like a little bit! Shhhh! They're all an example, they're all gone! Shhh! Letizia! Grazie a tutti. 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 My name is Ivan. My name is... My name is Christo. Crystal. Hello. Okay, that is from us. What do we do now? We can play your game if you want. Something with... Can you change the settings? Because we have our video? Because we have our video very big and you are very small. Okay, I will try... Okay, I will try... Okay, I will try... Okay, perfect. Thank you. Okay, okay. We have our video very big and we have our video very big and very... We have our video very big and very... Yeah, okay, but whatever. Okay, so do we show you this... Do you want to play this... What is this with the cards? Is it okay? Yes, yes, exactly. Yes, yes, exactly. Yes, sir. Hello. Hello. What is this? What is this? Power! . . Another one! . Go ahead! what is this? Fire! Fire! . What is this... Grazie. Bello! Ok, perfetto! Bravo! Ok, la prossima! Ciao, cosa è questo? Ciao! Ciao! Ciao, cosa è questo? Sì! 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 Non! Sì! 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 No! Non! Sì! Lion, Elefant. Non è il tuo turno. Lion, Elefant. Come si chiama Animals? Animals. Animals, ok. Now it's your turn. That was all. You can show us some things now. Ok, now we have to show you... Ok, Ades... Now I will change the screen. Ok, Ades, go. Ok. What color is this? What color is this? Green! Green! Red! 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 Ok, ok. Red! 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 un'ambizione carina domanda cosa è questo? un'ambizione 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 marcherita non volevi dire non volevi dire non volevi dire che risponde un'ambizione un'ambizione vediamo come volevi dire o meno vNo vai rifi la Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. In italiano è... Zdrave! 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 Ok. Cosa è in italiano? Cosa sei? In italiano, come sei? Come sei? Zdrai! 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 Ok, è in Bulgaria Caxi! 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 Zdrave! Zdrave! Caxi! Zdrave! 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 Ok, cosa altra? non lo so come si dice goodbye in bulgaria dovisdane dovisdane it's very long we can hear you how do you say dovisdane can you repeat dovisdane 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 ok, adesso noi diciamo invece arrivederci 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 in bulgaria in bulgaria in bulgaria bambini 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 sveti 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Say good-bye. 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 See you. Bye-bye. 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 Thank you. Thank you very much. See you again, baby. See you again. Thank you. It's very close. The video is very close. Oh, well, okay. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Okay. I'm still situated. Oh, I'm still situated.